ci sono vari modi per utilizzare ed esprimere il dato sicuramente quello modo che andiamo a raccontare oggi è quello di farlo attraverso utilizzando una moderna struttura che una moderna piattaforma analytics per esempio e anziché invece doverne creare uno da zero perché la possibilità invece di crearsi un produttino completamente custom. Come WeSee sostanzialmente noi cosa facciamo? Noi siamo esperti in artificial intelligence e machine learning di immagini e queste immagini le prendiamo attraverso delle camere visive o delle camere termiche o multispettrali su vari asset industriali in questo caso noi ci siamo focalizzati su tutto quello che è environment e quindi rinnovabili quindi si può vedere in un anno specifico quante sono le anomalie di un certo tipo piuttosto che un altro possiamo fare delle analisi legate alla difettosità di un tipo di pannello rispetto a un altro si può fare una comparazione tra un anno e l'altro. Grazie a tutti!